pirandello la cassa riposta quando il biloccino fu sotto la chiesina di san biaggio lungo lo stradone il mendola di ritorno dal podere pensò di salire al cimitero sul poggio a vedere che cosa ci fosse di vero nelle ragnanze rivolte al municipio per quel custode nocio pampina detto sacramento assessore comunale da circa un anno nino mendola proprio dal giorno che aveva assunto la carica non stava più bene soffriva di capogiri senza volerlo confessare a se stesso temeva ad essere colpito da un giorno all'altro da poplessia male di cui erano morti tutti i suoi immaturamente era perso sempre di pessimo umore e ne sapeva qualche cosa quel suo cavalluccio attaccato al biroccino ma tutta quella giornata in campagna sarà sentito bene il monto lo svago e per bravar la paura segreta aveva deciso lì per lì di fare quell'ispezione al cimitero promessa ai colleghi della giunta e rimandata per tanti anni non bastano i vivi pensava salendo al poggio danno da fare anche i morti in questo porco paese ma già sono sempre quelli i vivi rottorio sanno un corno i morti se sono guardati bene o male forse non dico di no pensare che da morti saremo trattati male affidati alla custodia di pampina stolido e ubriacone può far dispiacere basta adesso vedrò tutte calunnie come custode di cimitero noccio pampina detto sacramento era l'ideale già una larva che lo portava via il fiato e certi occhi chiari spensi una vocina di zanzara pareva proprio un morto uscito di sotterra per attendere così come poteva alle faccenduole di casa che cosa c'era da fare poi tutta la gente da bene lì ormai era tranquilla le foglie sì qualche foglia caduta dalle siepi ingombrava i vialetti qualche sterpo era cresciuto qua e là e i passeri monellacci ignorando che lo stile lapidario non vuole interpunzioni avevano seminato con le loro cacatine tra le tante virtù di cui erano ricche le iscrizioni di quelle pietre tombali troppe virgole forse e troppi punti ammirativi piccolezze se non che entrando nel bugicattolo del custode a destra del cancello il mendolo arrestò e quella lì noccio pampina detto sacramento aprì le labbra squallide a un'ombra di sorriso e bisbigliò cassa da morto eccellenza era di fatti una bellissima cassa da morto lustra di castagno con borchie e dorature fatta proprio senza risparmio là quasi in mezzo alla stanzetta grazie la vedo riprese il mendola dico perché la tieni lì è del cavalier piccarone eccellenza piccarone e perché non è mica morto no no eccellenza non si sa mai disse pampina ma la signoria saprà che il mese scorso gli morì la moglie povero galantuomo e con ciò la accompagnò fin qua a piedi a tempatello com'è sì signore poi mi chiamò dice senti sacramento non scappa un mese avrai anche me ma che dicevo signoria gli rispose lui ma lui sta zitto dice senti questa cassa figlio allo mio mi costa più di vent'onze bella la vedi per la sant'anima capirai non ho badato a spese ma ora la comparsa è fatta dice che ne fa più la sant'anima di questa bella cassa sottoterra peccato sciuparla dice facciamo così caliamo la sant'anima dice pulitamente con quella di zinco che sta dentro e questa me la riponi servirà anche per me uno di questi giorni sull'imbrunire manderò a ritirarla il mendola non volle più né sapere né vedere altro non gli parve l'ora di giungere al paese per spargervi la nuova di quella cassa da morto che piccarone aveva fatto riporre per sé era famoso il paese gerolomo piccarone avvocato e al tempo dei borboni cavaliere di san gennaro per la spilorceria e la furbizia ma il pagatore poi se ne raccontavano sul suo conto da far restare a bocca aperta ma questa pensava il mendola tempestando allegramente di frustate il povero cavalluccio questa le passava tutte è vera o è come la stessa verità l'aveva veduta lui la la cassa da morto con gli occhi suoi pregustava le risate che avrebbero accolto il suo racconto bisbigliato con la vocina di pampina e non avvertiva neppure alla nuvola di polvere e al fragore che il biloccino sollevava per la corsa furiosa del cavalluccio quando ecco para para o di gridare a squarciagola dall'osteria del cacciatore che un tal dolce mascolo teneva lì il suo stradone due amici bartolo caglio e gaspere ficarra cacciatori accaniti seduti davanti all'osteria sotto la pergola si erano messi a gridare a quel modo credendo che il cavalluccio avesse preso la mano al mendola ma che mano correvo tu corri così disse il gaglio hai qualche altro collo di ricambio a casa se sapeste cari miei esclamò il mendola smontando ilare e ansimante e per cominciare narrò a quei due amici la storia della cassa da morto quelli finsero lì lì di non volerci credere ma per un modo di dimostrare la loro maraviglia e allora il mendola a giurare che parola d'onore la aveva veduta lui con gli occhi suoi la cassa da morto nel bugicattolo di sacramento altri due a loro volta preciano a narrare di piccarone altre prudezze già note il mendola voleva rimontare subito sul biroccino ma quelli avevano già ordinato a dolce mascolo un bicchiere per l'amico assessore e volevano che questi bevesse dolce mascolo però era rimasto lì come un ceppo dolce mascolo eh gli gridò il gaglio l'oste col berretto di pelo a barca buttato a sghembo su un orecchio senza giacca con le maniche della camicia rimboccata e sulle braccia pelose si riscosse sospirando mi perdonino disse quaglio sto quagliando propriamente a sentire i loro discorsi giusto questa mattina il cane del cavalier piccarone turco quella brutta bestiaccia che va e viene da sé dalla torre del canatello alla villetta quassù ma sanno che m'ha fatto io di venti rocchi di salsiccia ma rubati che tenevo lì sullo sporto che gli facciano veleno fortuna dico che ho due testimoni il mendola il gaglio e il ficarra scoppiarono a ridere il mendola disse te li sali caro mio dolce mascolo alzò un pugno schizzò in fiamme dagli occhi ah no per dio a me la salsiccia me la pagherà me la pagherà me la pagherà me la pagherà ribatte di fronte alle risate incredule e al negare ostinato dai tre avventori lo signori vedranno ho trovato la via so di che pelame è e con un gesto furbesco che gli era abituale strizzò un occhio e con l'indice teso si tirò giù la palpebra dell'altro che via avesse trovato non volle dire disse che aspettava dalla campagna i due contadini che erano stati presenti la mattina al furto della salsiccia e che con esse prima di sera si sarebbe recato alla villetta di piccarone il mendola rimontò sul birroccio senza bere gallio e ficarra saldarono il conto e dopo aver consigliato all'oste di piantare per il suo meglio quell'impresa di farsi pagare andarono via a metter su quella villetta ad un sol piano sul viale all'uscita del paese c'era un piccarone avvocato e cavaliere di san gennaro al tempo di re bomba sarà industriato per più di vent'anni ed era fama non gli fosse costata neppure un centesimo le male lingue dicevano che era fatta di sassolini trovati per via e sospinti fin là ad uno ad uno coi piedi dallo stesso piccarone il quale era pure un dottissimo giure consulto è un uomo ad alta mente e di profondo spirito filosofico un suo libro sull'ognosticismo un altro sulla filosofia cristiana erano stati anche tradotti in lingua tedesca dicevano ma era malva di tre cotte piccarone cioè nemico acerrimo di ogni novità andava ancora vestito alla moda del ventuno portava la barba a collana tozzo rude inseccato nelle spalle con le cilia sempre aggrottate e gli occhi socchiusi si grattava di continuo il mento e approvava i suoi segreti pensieri con frequenti grugniti l'italia hanno fatto l'italia che bella cosa l'italia punti e strade illuminazione esercito e marina istruzione obbligatoria e se voglio restare somaro no signore istruzione obbligatoria tasse e piccarone paga pagava poco o nulla veramente a furia di sottilissimi cavilli che stancavano e esasperavano la pazienza più esercitata concludeva sempre così che c'entro io le ferrovie non viaggio l'illuminazione non esco di sera non pretendo nulla io grazie non voglio nulla un po d'aria soltanto per respirare l'avete fatta anche voi l'aria devo pagare anche l'aria che respiro sare infatti appartato in quella sua villetta ritirato dalla professione che pure fino a pochi anni addietro gli aveva dato lauti guadagni ne doveva aver messi da parte parecchi a chi li avrebbe lasciati alla sua morte non aveva parenti né prossimi né lontani e i biglietti di banca magari sì avrebbe potuto portarseli giù con sé in quella bella cassa da morto che si era fatta riporre ma la villetta e il potere laggiù a cannatello quando dolce mascolo in compagnia dei due contadini si fece innanzi al cancello turco il cagnaccio di guardia come ci avesse compreso che l'oste veniva per lui si sfogò furibondo contro le sbarre il vecchio servo a corso non fu buono a trattenerlo e allontanarlo bisognò che piccarone il quale se ne stava a leggere nel chiosco in mezzo al giardinetto lo chiamasse col fischio e lo tenesse poi agguantato per il collare finché il servo non venne a incatenarlo dolce mascolo che la sapeva lunga si era vestito di domenica e bello raso tra quei due poveri contadini che ritornavano stanchi e cretosi dal lavoro appariva più del solito prosperoso e signorile con un certo viso latte rosa che era una bellezza a vedere e la simpatia di quel porretto peloso sulla guancia destra presso la bocca arricciolato entrò nel cosco esclamando con finta ammirazione gran bel cane gran bella bestia che guardia vale tanto oro quanto pesa piccarone con le ciglia aggrottate e gli occhi socchiusi grugni più volte assentendo col capo a quegli elogi poi disse che volete sedete e indicò gli sgabelletti di ferro disposti giro giro nel chiosco dolce mascolo ne trasse uno avanti presso la tavola dicendo ai due contadini sedete là voi vengo da vostra signoria uomo di legge per un parere piccarone aprì gli occhi non faccio più l'avvocato caro mio da tanto tempo lo so soffrettò a soggiungere dolce mascolo la signoria però è un uomo di legge antico e mio padre sant'anima mi diceva sempre segui gli antichi figlio mio so poi quant'era coscienzioso la signoria nella professione dei giovani avvocatucci d'oggi poco mi fido non voglio attaccarlite con nessuno vadi fossi matto sono venuto qua per un semplice parere che vostra signoria solo mi può dare piccarone richiuse gli occhi parla t'ascolto vostra signoria sa cominciò dolce mascolo ma piccarone ebbe uno scatto e uno sbuffo quante cose so io quante ne sai tu so so sa e vieni al caso caro mio dolce mascolo rimase un po male tuttavia sorrise e ricominciò sì signore volevo dire che vostra signoria sa che ho sullo stradone una trattoria del cacciatore sì ci sono passato tante volte andando al canatello già e avrà veduto allora certamente che sullo sporto sotto la pergola tengo sempre esposta un po di roba pane frutta qualche prosciutto piccarone accennò di sì col capo poi aggiunse misteriosamente veduto e sentito anche qualche volta sentito che sanno di rena figliuolo capirai la polvere dello stradone basta vieni al caso ecco signore rispose dolce mascolo ingollando poniamo che io sullo sporto tenga esposta un po di salsiccia put a caso ora vostra signoria forse questo da stavo per dire di nuovo ma è un mio vezzo o signoria forse non lo sa ma di questi giorni abbiamo il passo delle quaglie dunque per lo stradone cacciatori cani continuamente vengo vengo al caso passa un cane signor cavaliere spicca un salto e mi afferra la salsiccia dallo sporto un cane sì signore io mi precipito dietro e con me questi due poveracci che erano entrati nella bottega per comperarsi un po di companatico prima di recarsi in campagna al lavoro è vero sì o no corriamo tutti e tre insieme appresso al cane ma non riusciamo a raggiungerlo del resto anche a raggiungerlo ma signoria mi dica che avrei potuto farmene più di quella salsiccia addentata e strascicata per tutto lo stradone inutile raccattarla ma io riconosco il cane so a chi appartiene un momento interruppe a questo punto piccarone non c'era il padrone no signore rispose subito dolce mascolo tra quei cacciatori là non c'era si vede che il cane era scappato di casa bestie da fiuto capirà sentono la caccia soffrono a star chiusi scappano basta so come l'ho detto a chi appartiene il cane lo sanno anche questi due amici miei presenti al furto ora vos signoria uomo di lezze mi deve dire semplicemente se il padrone del cane è tenuto a risersirmi del danno ecco piccarone non pose tempo a rispondere sicuro che è tenuto figliuolo dolce mascolo balzò dalla gioia ma subito si contenne si volse ai due contadini avete sentito il signor avvocato dice che il padrone del cane è tenuto a risercirmi del danno tenutissimo tenutissimo raffermò piccarone avevano detto forse di no e no signore rispose dolce mascolo gongolante aggiungendo le mani ma vos signoria mi deve perdonare se da povero ignorante come sono ho fatto debolmente un giro così lungo per venirle a dire che vos signoria deve pagarmi la salsizza perché il cane che me l'ha rubata è proprio il suo turco piccarone stette un pezzo a guardare dolce mascolo come allocchito poi tutto un tratto abbassò gli occhi e si mise a leggere nel libraccio che teneva aperto sulla tavola i due contadini si guardarono negli occhi dolce mascolo alzò una mano per far loro cenno di non fiatare piccarone fingendo tuttavia di leggere si grattò il mento con una mano grugni disse dunque turco è stato me lo posso giurare signor cavaliere esclamò dolce mascolo alzandosi in piedi e incrociando le mani sul petto per dar solennità al giuramento e sei venuto qua rispose cupo calmo piccarone con due testimonie no signore negò subito dolce mascolo per il caso che vos signoria non avesse voluto credere alle mie parole ah per questo borbotò piccarone ma io ti credo caro mio siedi sei un grande abbenuomo ti credo e ti pago godo fama di mal pagatore chi lo dice signor cavaliere tutti lo dicono lo credi anche tu va là due due testimoni per la verità tanto per lei quanto per me bravo sì tanto per me quanto per te dici bene le tasse ingiuste caro mio non voglio pagare ma quel che è giusto sì lo pago volentieri ho sempre pagato turco t'ha rubato la salsiccia dimmi quant'è e te la pago dolce mascolo venuto con la prevenzione di dover combattere chissà che battaglia contro i cavilli e le insidie di quel vecchio rospo di fronte a tanta remissione s'abbosciò a un tratto mortificato una sciocchezza signor cavaliere disse saranno state una ventina di rocchi poco più poco meno non mette quasi conto parlarne no no rispose piccarone fermo dimmi quant'è te la devo e te la voglio pagare subito figlio al mio tu lavori hai patito un danno devi essere risarcito quant'è dolce mascolo si strinse nelle spalle sorrise e disse venti rocchi di quei grossi due chili a una lira e venti il chilo così a poco la vendi domandò piccarone capirà rispose dolce mascolo tutto miele la signoria non l'ha mangiata gliela faccio pagare non vorrei gliela faccio pagare per quanto costa a me niente affatto nego piccarone se non l'ho mangiata io l'ha mangiata il mio cane dunque si dice a occhio due chili va bene a due lira il chilo faccia come crede quattro lire benone ora dimmi un po figlio allo mio venticinque meno quattro quanto fanno ventuno se non mi inganno bene mi dia ventuna lira e non ne parliamo più dolce mascolo lì per lì credete di aver inteso male come dice ventuna lira ripete placido piccarone qua ci sono due testimoni per la verità tanto per me quanto per te va bene tu sei venuto da me per un parere ora io i pareri figlio allo mio i consulti legali li faccio pagare venticinque lire tariffa quattro te ne devo di salsicce dammene ventuna e non se ne parli più dolce mascolo lo guardò in faccia perplesso se ridere o piangere non volendo credere che dicesse sul serio e parendogli tuttavia che non scherzasse io a lei balbettò mi pare chiaro figliuolo spiegò piccarone tu fai l'oste io debolmente l'avvocato ora come io non nego il tuo diritto al risarcimento così tu non negherai il mio per i lumi che mi hai chiesto e che ti ho dati adesso sai che se un cane ti ruba la salsiccia il padrone del cane è tenuto a fartene indenne lo sapevi prima no le cognizioni si pagano caro mio ho penato e speso tanto io per apprenderle credi che ti faccia celia ma sì signore confessò dolce mascolo con le lacrime in pelle aprendo le braccia io le abbono le salsicce signor cavaliere sono un povero ignorante mi perdoni e non ne parliamo più davvero ah no ah no caro mio scramò piccarone non abbono niente io il diritto è diritto tanto per te quanto per me pago io pago voglio pagare pagare ed essere pagato stavo qua a studiare come vedi ma hai fatto perdere un'ora di tempo ventuna lira tariffa e se non ne sai ben persuaso ascolto a me caro vada un altro avvocato a domandare se mi spetti o no questo compenso ti do tre giorni se in capo al terzo giorno non mi avrai pagato sta pur sicuro figliuolo mio che ti cito ma signor cavaliere scontiurò di nuovo dolce mascolo a mani giunte alterandosi però in volto improvvisamente piccarone alzò il mento alzò le mani non sento ragioni ti cito dolce mascolo allora perdette il lume degli occhi l'ira lo acciuffò che era il danno niente alle beffe pensò chi avrebbe avute che già indovinava guardando le facce allegre di quei due contadini lui che si credeva tanto scaltro lui che sarebbe impegnato di spuntarla e già aveva quasi toccato con mano la vittoria tale impeto gli dia del vedersi preso ora quando meno se lo aspettava nella sua stessa ragna che si trovò ad un tratto mutato in bestia feroce ah perciò disse accostandogli si con le mani levate e contratte perciò è così ladro il suo cane l'ha addottorato lei piccarone si levò in piedi turbido levò un braccio esci fuori risponderei anche d'ingiuria un galantuomo che galantuomo rugì dolce mascolo afferrandogli quel braccio e scuotendoglielo furiosamente i due contadini si precipitarono per trattenerlo ma a un tratto che che non è il vecchio si abbandonò appeso inerte per quel braccio alle mani violenti di dolce mascolo e come questi al libito le aprì cascò prima a sedere sul suo sgabello traboccò poi da un lato e rotolò per terra giù tutto in un fascio di fronte al terrore dei due contadini dolce mascolo contrasta il volto come per uno spasimo di riso ok non lo aveva nemmeno toccato quelli si chinarono sul giacente gli mossero il braccio scappate scappate dolce mascolo li guardò entrambi come in ebetito scappare si intese in quel punto cicolare una banda del cancello e si vide la cassa da morto che il vecchio aveva fatto riporre per sé entrare in trionfo sulle spalle di due portantini ansanti quasi chiamati di lì al bisogno a tale apparizione restarono tutti come basiti dolce mascolo non pensò che nocio pampina detto sacramento dopo la visita e l'osservazione dell'assessore si fosse affrettato a mettersi in regola rimandando a destino quella cassa ma si ricordò in un lampo di ciò che il mendolo aveva detto la mattina là nella trattoria e all'improvviso in quella cassa vuota che aspettava e sopravveniva ora al punto giusto come chiamata misteriosamente vide il destino il destino che si era servito di lui della sua mano si afferrò la testa e si mise a gridare eccola 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 questa lo chiamava siatemi tutti testimoni che non l'ho nemmeno toccato questa lo chiamava l'avevo fatta mettere da parte per sé ed eccola qua che viene perché doveva morire e prendendo per le braccia i due portantini per scuoterli dallo stupore non è vero non è vero ditelo voi ma non erano per nulla stupiti quei due portantini da chi avevano portata appunto quella cassa da morto era per loro la cosa più naturale del mondo che trovassero morto l'avvocato piccarone si strinsero nelle spalle e ma sì dissero eccoci qua